Le tavole eugubine all'Expo di Milano ci stiamo lavorando ma siamo gravemente in ritardo. È l'assessore alla cultura del comune di Gubbio, Augusto Ancillotti, ad intervenire sulla proposta formulata da Renzo Menichetti che aveva scritto all'amministrazione comunale chiedendo un impegno formale per portare le sette tavole bronze all'esposizione di Milano come simbolo della cultura e civiltà italiana. Il nesso con l'Expo dedicato all'alimentazione ci sarebbe, confessa Ancillotti, perché le tavole non mancano di annotazioni sul cibo, ovvero su quegli alimenti che erano utilizzati nelle cerimonie sacre che rappresentavano dunque l'aspetto rituale del mangiare. Il problema semmai è ottenere dall'organizzazione di Expo il via libera e da lì trovare le risorse per andare a Milano. L'assessorato è al lavoro per capire se il padiglione relativo all'arte curato da Vittorio Sgarbi possa ospitare o meno le tavole bronze ma resta il fatto che se si dovesse avere il via libera servirà il nulla host della soprintendenza e uno sponsor che sostenga l'iniziativa perché il comune non può coprire costi assicurativi e di trasporto. Una strada dunque in salita che tuttavia, spiega Ancillotti, va tentata e percorsa. Nel frattempo però si delinea un altro progetto, quello su gubbio, finalizzato a valorizzare le tavole o gubbine perché se è vero che rappresentano un reperto di indubbio valore storico e documentario è altrettanto vero che il suo appeal artistico è abbastanza relativo. Non emoziona vederle, ammette Ancillotti, ma sapere esattamente cosa dicono sì. È così che l'amministrazione comunale sta lavorando all'individuazione di un luogo dove allestire un centro multimediale che, parafrasando Ancillotti, trasformi le oltre 4.000 parole delle tavole in immagini, suoni, voci in cui tutti possano immedesimarsi ed entrare emozionalmente. Un progetto ambizioso al quale l'assessorato sta lavorando e che nell'immediato non si tradurrà nel trasloco delle tavole o gubbine da Palazzo dei Consoli ad altro sito museale, ma che in futuro non è ipotesi da escludere.